Ciao cantanti, innanzitutto buon 2024 che sia un grande anno per tutti noi, ve lo auguro di tutto cuore e volevo cominciare quest'anno riprendendo un argomento che ho trattato nel primo video in assoluto che ho mai fatto su questo canale video che dedicai alle false corte e quindi riprendo un attimo l'argomento perché un anno fa quando feci il video non esaurì completamente tutto quello che potevo dire su questi benedetti due lembi di pelle che vanno in aggiunta alle nostre vere corde vocali e quindi ho deciso di fare questo video per specificarvi le due modalità principali con cui possiamo utilizzare queste beate false corde quindi sigla e poi false corde, i due macromodi per utilizzarle nel canto ma non solo, anche nella voce parlata o come vogliamo SIGLA! Eccoci qua, piccolo riassuntino delle cose dette nelle puntate precedenti, così si dice, quindi nel primo video che feci sull'argomento vi spiegai che noi abbiamo quattro corde vocali e non due, due vere corde vocali che sono quelli che bene o male tutti conoscono e due false corde vocali che si trovano sopra le nostre vere corde vocali e che possiamo mandare in vibrazione, possiamo andare anche in vibrazione Cosa succede? Noi possiamo far sì che queste false corde vocali si appoggino sulle vere corde vocali e quindi comincino a vibrare anch'esse con una vibrazione, con una velocità di vibrazione che è la metà, che sarà la metà di quella delle nostre vere corde vocali andando a generare così un subarmonico che risuonerà un'ottava sotto la nota che noi andremo ad intonare Breve esempio Io sto intonando questa nota Ma se appoggio le mie corde vocali sulle vere Io ho come risultato una nota che risuona un'ottava sotto la nota che sto in realtà intonando Da qua il primo trucco, non dobbiamo cercare di mandare in vibrazione le nostre false corde vocali cercando di intonare direttamente la nota grave che abbiamo diciamo come risultato di questa operazione perché non ce la facciamo, noi nella realtà stiamo intonando, andremo a intonare la nota un'ottava sopra quella che in definitiva andrà a risuonare e questo ci permetterà appunto di poterle cantare altrimenti cercheremo di intonare una nota troppo grave e impossibile da intonare direttamente Vi dicevo che le false corde vocali sono quelle che utilizziamo prevalentemente quando per esempio ci schieriamo la voce Cercando di, quando facciamo questa cosa, sentirne la vibrazione e farle vibrare quindi non bloccarle come succede a volte a lezioni in cui invito appunto i miei allievi a provare questa modalità ma a volte non ci riescono Oppure sono quelle che mandiamo in vibrazione quando cerchiamo di imitare per esempio un rugito Anche qua facciamo in modo che il rugito di sentirlo fino al petto di fare sì che la vibrazione scenda quantomeno fino al petto Quindi quando facciamo questo tipo di suoni cerchiamo di avere un attacco morbido Non duro Che ci permetta poi quando vanno in vibrazione di mantenere la nostra gore aperta Sentirne la vibrazione E far sì che questa si spanda anche verso il basso lungo il nostro torso Comunque vi invito, come vi dicevo all'inizio di questo video Andare a vedere il primo video sulle false corde che feci perché lì mi sono soffermato prevalentemente su questo Su questa modalità di utilizzo delle false corde Che ha anche nomi diversi secondo le culture in cui viene utilizzata Comunque diciamo che è la modalità più conosciuta Esiste un altro modo invece per utilizzare le nostre false corde In cui nel quale invece di mandarle in vibrazione Andiamo a irrigidirle Creando così una compressione a livello vocale Un effetto anche questo molto molto utilizzato Io sono un grandissimo amante delle voci distorte Da sempre, da quando non sapevo nemmeno che erano distorte Mi piaceva proprio il suono, risuonava in me Cioè è un qualcosa che io ho dentro E quindi sono un grande amante di certi cantanti Captain Biffard, se non lo conoscete vi invito ad andarlo ad ascoltare Ce ne sono tantissimi Tom Waits, Mike Patton Insomma tantissimi cantanti bravissimi ad utilizzare le distorsioni vocali Per quanto riguarda Captain Biffard, Tom Waits Quella modalità di utilizzo delle false corde irrigidendole prevalentemente Vi invito ad ascoltare il maestro assoluto Che è Howling Wolf Questo bluesman Incredibile a livello vocale A livello vocale secondo me Diciamo che proprio passa ai confini del blues Può essere considerato un vocalista di musica contemporanea Perché è veramente avanti tecnicamente Cioè è mostruoso a livello sonoro Howling Wolf Il lupo ululante Diciamo così Andate a sentirlo e scoprirete un mondo incredibile Soprattutto che vi servirà per crearvi una immagine sorora adeguata Per quello che vi voglio far provare adesso Vi stavo dicendo La seconda modalità di utilizzare le false corde È quella in cui le andiamo a irrigidire E per fare questa cosa noi dobbiamo partire Da un altro modo di utilizzare le nostre corde Questo modo che vi faccio sentire adesso Chiamato anche il vocal fry o voce laringea eccetera È la modalità per cercare di intonare I toni più gravi che possiamo fare con la nostra voce Questo è un giochino che probabilmente avete fatto Per i fatti vostri anche da piccoli Quando si sperimenta con la voce Si gioca Ed è questo Ciao come stai Il cosiddetto vocal fry Questa modalità per emettere suoni È considerato un vero e proprio registro vocale Una volta che siete abbastanza pratici con questo suono Vi invito a cominciare sempre partendo dal fry Poi cerchiamo di cantarci dentro Come abbiamo fatto con il suono dello schiarirsi La voce o del rugito Come vi spiegai nel primo video Lì mi invitai a fare un suono bianco Di false corde Imitando un rugito E di cantarci dentro Ok? Quindi la somma della vibrazione delle false corde Più quella delle nostre vere corde vocali Dava il risultato finale Così partendo dal fry Noi cercheremo di fare questo Partiamo dal fry Allentiamo un pelo la morsa Cercando di mandare in vibrazione tutto il corpo delle corde Ok? Cominciamo dal suono Bianco del fry In cui noi non stiamo intonando nessun tipo di nota Sul quale possiamo giocare Muovendoci con l'articolazione Avendo l'impressione di cambiare anche la nota che stiamo intonando Ma in realtà stiamo lavorando con gli armonici Il suono è sempre quello Cambia l'effetto perché io apro e chiudo la bocca Da questo cerchiamo di mandare in vibrazione anche di più il corpo delle corde vocali Avendo un suono Arrivando ad un suono un pochino compresso Come quello che vi ho fatto sentire Se andate a sentire Willy the Pimp Questo brano che canta Captain Biffard nel disco Hot Rats di Frank Zappa Uno dei dischi più conosciuti del nostro amatissimo Frank Sentirete che lui utilizza una voce in questa modalità Compressa Well I'm a little pig with my hair gets back Pericaki pants in my shoes shine black Questa voce è data dal irrigidimento delle nostre false corde vocali E quindi abbiamo questo suono diciamo compresso che è artisticamente molto molto utilizzabile Molto interessante Queste sono le due modalità principali di utilizzo delle nostre false corde vocali Una E per questa vi invito ad andare a vedere il primo video che feci un anno fa Seconda Data dall'irrigidimento delle false corde vocali Spero che questo video sia stato utile Per spiegare brevemente questa modalità molto interessante di utilizzare la voce Molto interessante per chi? Molto interessante per tutti quelli che praticano un genere musicale In cui sono richieste anche queste sonorità per esercizio di stile Quindi sicuramente il blues, sicuramente il rock, sicuramente il metal, sicuramente il punk Sicuramente un sacco di generi che ci fanno impazzire, che ci piacciono tantissimo Quindi esercitatevi, fatemi sapere sotto i commenti se è stato utile questo video Se siete riusciti a ripetere questi suoni E ci vediamo presto per un altro video In cui probabilmente aggiungerò cose rispetto al video che ho fatto sull'appoggio e sostegno Perché l'appoggio e sostegno sono due aspetti molto interessanti e fondamentali Per praticare anche questo tipo di suoni Quindi quando fate questo tipo di suoni Ricordatevi sempre di appoggiare Cioè cerchiamo di sgravare la gola il più possibile di qualsiasi tipo di fatica E di lavorare correttamente con la nostra respirazione Ciao ragazzi, ci vediamo presto e buon canto